ciao raga come va mi vengo da una scampagnata a monte tezio doccetta post brandium usate lo scricchio l'io della sedia allora oggi torniamo a parlare di pnl perché ce n'è bisogno di parlare di questo argomento in quanto molte persone mi hanno chiesto in maniera molto insistente soprattutto una cosa ossia come ho fatto a smettere di fumare e di bere contemporaneamente io non bevo alcolici da oddio non so neanche quanto tempo dal 31 ottobre e non fumo neanche una sigaretta ciao davide non fumo neanche una sigaretta dal 19 dicembre quindi sono quasi due mesi interi che non non tocco una sigaretta e almeno non lo so cinque mesi che non tocco una birra uno sciottino tolti casi molto particolari in cui per brindare no quelle quelle cazzatine insomma ho bevuto qualcosa ma non non consumo più niente di quel tipo anche il caffè sta diminuendo quindi mi sorge spontanea questa premura ossia l'ancoraggio mentale ossia una delle tecniche più potenti che si possono scoprire grazie a pnl che cos'è un ancoraggio vi farò questo esempio l'ancoraggio è una macchina che va in una autostrada o in una superstrada o in una strada normale con dei semafori quando succede un qualcosa vedete un semaforo verde la macchina che cosa pensa ossia il cervello va davanti ossia ogni volta che vedi il semaforo verde non ti fermi ma procedi vai stretto seconda cosa quando vedi un semaforo rosso automaticamente il segnale al tuo cervello implica che quella cosa ok è uno stop quindi la macchina tra le cose si ferma un ancoraggio un'associazione mentale molto forte è cambiare invertire i ruoli per esempio di un semaforo verde un semaforo rosso ossia ogni volta che io prendevo una sigaretta in mano era un semaforo verde ogni occasione era buona per fumare e per bere anche bere e fumare contemporaneamente quindi uno spritz chiamava la sigaretta la sigaretta chiamava il birrozzo e viceversa e il caffè tre cose che si auto alimentavano quindi ogni volta che c'era una pausa da una lezione to pausa sigaretta si usciva qua fuori e si fumava ogni volta che c'era un caffè c'era una sigaretta ogni tre secondi c'era un semaforo verde un ancoraggio significa avere il potere di cambiare quel semaforo verde con un semaforo rosso cioè io ho detto al mio cervello la mia anima tra virgolette sensibile la mia mio corpo astrale chiamatelo come volete cioè edoardo la mia persona che ha un cervello perché noi non siamo il nostro cervello assolutamente questa è una realtà dei fatti con un ancoraggio ora faccio un ancoraggio spaziale con la mano ho preso quest'idea e ho cambiato una a livello neurale un semaforo verde con un semaforo rosso perché noi possiamo programmare la nostra testa come vogliamo noi associando ancorando quello che vogliamo noi ora vi leggo questo articolo che ho trovato su internet che cos'è l'ancoraggio l'ancoraggio è una tecnica usata nella pnl per creare uno stimolo un'ancora in grado di generare una risposta emotiva e mentale desiderata l'ancoraggio è un'importante tecnica usata nella programmazione neuro linguistica bla 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 ancoraggio ne creiamo in modo consapevole ogni giorno a noi interessa creare delle ancore in grado di innescare sensazioni piacevoli anche lavorando su vecchi ancoraggi inconsapevole ma termina di fatto l'ancoraggio serve ad avere una sorta di pulsante che quando lo premiamo attiva in modo automatico veloce emozione pensieri che desideriamo ritrovare quindi un semaforo ogni volta che io penso a una sigaretta penso un semaforo rosso cioè ho bloccato ho invertito questa fase con un ancoraggio è una cosa molto potente perché tutte le persone che conosco che fumano mi hanno detto edo ma tu come diavolo hai fatto a smettere di avere delle dipendenze così potenti anche economicamente perché si parla di un qualcosa che ti prosciuga a livello di soldi in maniera pazzesca 5 euro al giorno si parla di 140 euro al mese più le varie birrette birrettine coctelini che uno si fa si parla di svariati centinaia di euro al mese quindi almeno 8 10 mila euro l'anno bruciati per quanto riguarda queste cose io grazie a questo questo tipo di tecnica che so sfruttare come voglio io posso ancorare posso associare appunto l'attività fisica con qualcosa una cosa che mi manca pesantemente devo riprendere in qualche modo perché troppa testa fa male quindi voi potete grazie a questa tecnica vi passerò poi di link in descrizione ancorare associare a delle attività che volete voi delle emozioni forti e ora mi racconterò come ho fatto a smettere di fumare nella precisione non solo ho utilizzato l'ancoraggio su me stesso per potete utilizzare addirittura negli altri quindi insomma dovete stare molto attenti ho associato l'idea del fumo a due tre idee molto forti una riguarda l'esperienza di una persona esterna che non posso citare in questo contesto la seconda del risparmio economico cioè associare il fatto che tra virgolette il risparmio di oltre 1600 euro l'anno è questo computer su cui ho appoggiato il mio telefono ok che mi ha costato più o meno quella cifra forse qualcosa di più quindi ogni volta che prendevo una sigaretta c'avevo questo semaforo rosso per cui cazzo io sto pagando un computer simbolicamente parlando nella mia testa il terzo ancoraggio che ho utilizzato a livello molto forte emozionale quindi va nella parte limbica del cervello non la parte assolutamente neocorticale a neocorteccia che tutte le persone fighe che conosco in ambito di musica imprenditoriale manageriale business what the fuck you want non fumano e non bevono tutte quanti non ce n'è neanche una che ha il vizietto del fumo e il vizietto dell'alcol quindi mi sono autoprogrammato la testa dicendo cavolo se anch'io voglio avere quel tipo di successo devo modellare quel tipo di comportamento ancorandomi a quel tipo di personalità quindi sto lì a spippacchiare le sigarette io sto mi sto allontanando da quel ancoraggio potente che avevo fatto e qui si introduce un nuovo argomento che affronteremo magari la prossima volta sia il modeling spero di essere stato molto esaustivo perché è molto più facile a dirsi che a farsi ovviamente perché non sapete come controllare il vostro cervello qui si parla di reti neurali si parla di tutta una serie di cose e anche conoscersi in maniera molto approfondita a livello personale quindi sono veramente dei rabbit holes molto profondi però è molto molto interessante perché noi viviamo di impulsi impulsi serotonina dopamina tutto quello che volete no che possono essere diretti a seconda di quello che vogliamo ecco perché il sistema ci tiene in uno stato costantemente limbico ne ho già parlato in parola di tutta una serie di pulsioni che noi pensiamo siano assolutamente incontrollabili invece non lo sono anzi la vita comincia quando voi siete completamente liberi da alcunché da alcun tipo di dipendenza alla prossima